La Corte dei Conti ha condannato il funzionario istruttore dell'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina e assolto un dipendente per il recupero del mancato versamento di IVA per affari inerenti agli acquisti di autoveicoli. Il responsabile dovrà restituire oltre mezzo milione di euro. L'impiegato, difeso dagli avvocati Sergio Veroncini e Franco Di Paola, è stato invece scagionato. Al funzionario originario di Vibonati è stato contestato di aver consentito di matricolare un numero consistente di autoveicoli da destinare alla vendita prima del corretto assolvimento degli obblighi d'imposta attraverso una procedura informatica denominata sblocco di telaio, idonea a correggere le limitazioni imposte dal programma informatico in presenza di versamenti tributari che risultavano insufficienti secondo la normativa applicabile. Si consentiva in questo modo l'immatricolazione di 156 autoveicoli per i quali era stata pagata in Italia una somma esigua a titolo di IVA nel presupposto che la restante parte sarebbe stata assolta nel paese di provenienza del veicolo. Così invece non succedeva. La vicenda prendeva origine da una segnalazione pervenuta dalla procura alla stessa agenzia delle entrate nel 2017 e nella parte penale sono sette le persone rinviate a giudizio per peculato e truffa. La corte dei conti ha condannato il responsabile dell'ufficio a pagare all'agenzia delle entrate 578 mila euro assolto il dipendente in quanto è stata accolta la tesi che lo sblocco di telaio è di competenza esclusiva del direttore dell'ufficio.